Alla faccia delle voci che solo poche ore fa davano Umbria Mobilità per spacciata, ecco che arriva uno spiraglio di luce per l'azienda di trasporto unica. Pare infatti che l'interessamento di Bus Italia sia ben più concreto di quanto ci si aspettasse. Proprio in queste ore la società, facente capo a Trenitalia, avrebbe inviato una lettera per chiedere l'UMI sul bando di vendita. Come ormai è noto da settimane, sul tavolo c'è il 70% di Umbria Mobilità Esercizio. Le aziende hanno tempo fino al 29 luglio per dichiarare il loro interesse all'acquisto. Il 30% verranno aperte le buste ed infine scatterà la seconda fase della vendita con la spedizione dell'invito a presentare l'offerta. Dopodiché l'iter prevede la presentazione di un'offerta vincolante e in ultimis la valutazione e l'aggiudicazione. Un iter che dovrebbe concludersi entro la fine del 2013. Per quanto concerne le potenziali concorrenti di Bus Italia, sarebbero due le altre società interessate all'acquisto di Umbria Mobilità, i francesi di Transdev e una società tedesca. Intanto, mentre continua il valzer dei nomi, i sindacati sono in attesa di una risposta da parte degli enti proprietari dopo la richiesta di un incontro urgente formulata nei giorni scorsi. In caso contrario, già è stata annunciata la mobilitazione. Ieri intanto la regione ha approvato un altro finanziamento extra per sopperire alle carenze di liquidità dell'azienda, ma per ora è solo una goccia nel mare. Inoltre, si tratta di soldi che Umbria Mobilità dovrà restituire entro il 2013, anche se i presupposti non sembrano essere incoraggianti.